Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale! In un precedente video vi avevo chiesto se poteva interessarvi vedere come applicare le ciglia finte, dei consigli, dei piccoli trucchetti e quindi oggi sono qui a fare questo video perché in tantissime eravate curiose di capire e scoprire di più in merito. Ovviamente non vi andrò a svelare i miracoli o i segreti arcani per quanto riguarda le ciglia finte ma semplicemente vi dirò quello che faccio io in base alla mia esperienza in quanto io non sono una makeup artist e non ho studiato in nessuna scuola di makeup per cui i consigli che vi do sono in base a quello che è la mia esperienza in questi anni. Tra le tipologie diciamo quelle più commerciali abbiamo due barra tre categorie che sono queste qui Allora, le ciglia finte a ciuffetti, le ciglia finte a nastro e le ciglia finte sempre a nastro ma più corte, quindi leggermente spezzate, diciamo così. Per quanto riguarda le ciglia finte a nastro abbiamo diverse tipologie per quanto riguarda soprattutto l'effetto che poi si ottiene andandole a applicare. Possiamo avere questa tipologia qui quindi da un effetto un po' più particolare, un po' più scenico a delle ciglia finte come queste che danno un effetto un po' più volumizzante, un po' più naturale per modo di dire o quelle un po' più glamour. Come scegliere le ciglia finte e quale comprare? E' molto importante nella struttura della ciglia finta la sua banda dove sono collegate le ciglia, la parte che andrà ad adagiarsi sul nostro occhio. Più questa parte è spessa, più solitamente è rigida. Quindi la cosa che dovete guardare assolutamente è che questa banda sia il più sottile possibile e soprattutto trasparente perché essendo trasparente si andrà a minimizzare assolutamente con le vostre ciglia. Cosa succede quando comprate delle ciglia finte di questo tipo che ho qui in questo momento? Che essendo molto rigide non vanno a prendere perfettamente la forma del vostro occhio per cui quando le andate ad attaccare vi si staccheranno dai lati sicuramente ma vi pungeranno e quindi sono un po' importabili nel senso che riuscite a tenerle su un'ora ma dopo le dovete assolutamente togliere. A parte il dolore atroce perché vi punge e questa parte è molto sensibile non riuscite a tenerle e quindi buttate i vostri soldi anche se le ciglia che hanno questo difetto solitamente sono molto economiche però comunque anche un euro o due euro buttati è un peccato. Mentre le ciglia che dovete comprare sono quelle che hanno la banda sottile come vi dicevo trasparente. La barra che lega le ciglia è molto sottile e trasparente mentre quelle che vi ho fatto vedere prima hanno una barra molto spessa e grossa. Spero che visivamente vi abbia fatto capire la differenza che è molto sostanziale. Ci sono poi alcune ciglia che sono appunto queste qui che vi mostrerò dopo nell'applicazione che hanno una curvatura un po' più spessa non una curvatura scusate una banda un po' più spessa ma una curvatura molto a C. Vi faccio vedere. Guardate questa destra di NYX e questa sinistra pur avendo una banda larga queste qui ma hanno una curvatura C molto profonda rispetto a queste di NYX che hanno una curvatura un po' più leggera. Spero riusciate a vedere la differenza di curvatura che è davvero notevole. Allora io le bande grosse di questo tipo ve lo consiglio quando appunto avete questa curvatura perché avendo tutta questa curvatura qui non avrete difficoltà a far aderire la vostra ciglia all'occhio perché appunto seguirà perfettamente l'occhio ma se avete una ciglia di questo tipo quindi più retta diciamo così con la banda grossa sarà molto più difficile far aderire al vostro occhio perché non ha la curvatura necessaria per poggiare perfettamente sul vostro occhio. Io spero davvero di essermi spiegata bene. Solitamente le ciglia che hanno una curvatura così ampia così perfetta, chiamiamola così sono quelle appunto come questa tipologia qui che hanno un pelo quasi 3D. Vedete come ha i peletti in più livelli sono quasi a strato. Ok quindi ricapitolando si ha la barra leggermente più spessa se avete una curvatura C ma questa tipologia di barra è solo la trovate solo in queste ciglia molto molto almeno da quelle che ho provato io molto più folte quindi da un effetto un po' più drammatico e se volete invece delle ciglia dall'effetto più naturale o classiche andate sulla barra trasparente sottile. Un altro aspetto molto importante da tenere presente è la qualità del pelo quindi della ciglia perché si è molto plasticosa e super lucida e quindi ha un effetto molto finto mentre deve essere appunto opaca se non del tutto opaca ma comunque non lucidissima e deve appunto avere un pelo morbido e non troppo rigido. Quindi questi sono i due valori i due valori, diciamo le due caratteristiche scusate il termine giusto che dovete tenere presente quando comprate delle ciglia finte. Un'altra cosa molto molto importante che io stessa in passato ho sbagliato, non tenevo conto ma che poi ho notato a mie spese che è fondamentale è appunto la colla. La colla fa quasi non dico l'80% del risultato ma comunque potete avere delle ciglia top bellissime, strafighe ma se non avete una buona colla sicuramente non riuscirete ad averle perfettamente sul vostro occhio. La mia colla preferita di sempre è la Duo mi trovo benissimo c'è gente che si trova benissimo anche con la colla di Essence in tanti video di tanti youtuber italiani e non vedo sempre utilizzare questa colla di Essence io l'ho provata e sulla mia tipologia di occhio e sulla mia tipologia di pelle in questa zona purtroppo non aderisce e si stacca dai lati quindi rimango fedele la mia colla Duo che non mi ha mai delusa non mi veniva il termine l'unica cosa che non mi piace tantissimo di questa colla è l'odore che sa un po' io lo sento un po' non di pesce ma comunque di qualcosa di disgustoso però una volta asciugata non sentite più nessun tipo di odore. Come utilizzare la colla? Io sbagliavo sempre in passato perché applicavo la colla sulle ciglia e subito andavo ad applicare la ciglia finta ed è un errore madornale perché? perché la colla non ha subito quello stato di aderenza quindi se voi l'applicate subito vi si sposterà sempre e non avrete l'effetto desiderato quindi la cosa che dovete fare con qualsiasi colla credo perché ho provato anche quelle nelle ciglia nelle confezioni delle ciglia in passato comunque dovete sempre attendere 5 o 10 secondi quando andate ad applicare la colla quindi mi raccomando non mettete subito la ciglia finta aspettate 5 o 10 secondi e ve ne accorgete che la consistenza della colla cambia un pochettino perché diventa questa è bianca e diventa trasparente quando si asciuga quindi se già vedete che non dovete arrivare al punto che è totalmente trasparente perché lì ormai si sarà asciugata quindi 5 o 10 secondi cambierà visivamente un pochettino sarà sempre comunque bianca e andate subito ad applicare la colla quando la stendete sulla ciglia ovviamente la dovete stendere solo sulla bar la banda non sulle ciglia però dovete insistere un pochettino sulle parti esterne perché sono quelle che necessitano solitamente un po' più di colla perché nell'aprire e chiudere l'occhio sono le parti in cui si crea più diciamo attrito per applicare le ciglia finte potete servirvi o delle dita o della classica penzetta oppure di questa penzetta qui che io ho trovato su Amazon che praticamente vi permette di fare cosa lo potete fare anche con qualsiasi penzetta normale non vi preoccupate non dovete avere per forza questa ve la faccio vedere perché nel caso qualcuna di voi la possiede o qualcuna di voi la vuole acquistare vi spiego appunto come usarla io con questa praticamente vado a unire la ciglia finta con la mia naturale facendo una leggera pressione in questo modo facendo così eviterete di lasciare dello spazio tra la vostra ciglia naturale e quella finta che appunto se avete questo spazio si noterà che indossate delle ciglia finte mentre andando con questa penzetta con una penzetta normale questa è più comoda perché essendo proprio inclinata un po' più lunga vi permette di schiacciare bene le ciglia però potete farlo in più step con la penzetta normale se vi state chiedendo quale marca di ciglia finta comprare allora io in base a quelle che ho utilizzato vi posso consigliare le red cherry che sono queste qui che sono molto economiche e super super buone le pagate due sterline tre sterline dipende poi dalla tipologia di ciglia che scegliete poi ci sono anche quelle di NYX che sono molto molto buone ovviamente non sono una ciglia finta MAC ma comunque se siete nelle prime armi vanno benissimo poi queste qui le sto provando cioè le ho comprate su Amazon quindi ancora non vi so dire come tengono come non tengono però dalla qualità mi sembrano che siano davvero ottime però devo testarle altre ciglia finte buonissime sono quella della Ardell e le trovate sul sito di Machillalia spero di averlo pronunciato bene e poi ovviamente le ciglia MAC sono molto buone poi vi spiegherò dopo l'applicazione come conservare e pulire anche le ciglia finte perché è uno step importante niente io direi di iniziare con l'applicazione perché ho già parlato tantissimo inizio andando applicare come vi dicevo prima queste ciglia finte della Harrison Lashes che ho acquistato su Amazon costano se non erro all'incirca 14 o 15 euro costano un po' di più rispetto alle ciglia classiche perché sono un po' 3D e quindi hanno un pelo particolare però diciamo sono delle ciglia che non sono da tutti i giorni nel senso che se non siete abituate io le metterei comunque tranquillamente tutti i giorni però se non siete abituate ad applicare le ciglia finte diciamo che sono un po' troppo però non le vieta che ci andate a fare la spesa ovviamente il procedimento che vi farò vedere per queste ciglia è identico a qualsiasi tipologia di ciglia finte tranne per quelle a ciuffetti che hanno un'applicazione diversa è molto importante rimuovere in un certo modo le ciglia dall'interno della confezione altrimenti le andrete a rovinare cosa da non fare assolutamente è prendere le ciglia da un'estremità e tirarle verso l'altra è assolutamente sbagliato la cosa che bisogna fare è tirare nel verso del pelo in che senso dovete mettere il dito in questo modo due o uno e tirare verso il basso in questo caso lo faccio solo con uno quindi dovete appoggiare il dito in questo modo e tirare nel verso del pelo verso il basso in questo modo e tirare ok tirate fino a quando la ciglia non si stacca non vi preoccupate non la rovinerete assolutamente in questo modo una volta staccata come potete vedere è intatta ed è perfetta mettete il dito e tirate giù il dito e tirate giù quindi seguite sempre il verso del pelo in questo modo le vostre ciglia sono perfette una volta staccate dalla confezione la cosa che dovete andare a fare è appunto prendere la misura in che senso andare a posizionare le ciglia sul vostro occhio per capire se sono più lunghe e di quanto sono lunghe rispetto al vostro occhio perché vi starete chiedendo bisogna tagliarle perché se voi applicate delle ciglia finte che sono più lunghe del vostro occhio invece di avere l'effetto occhio aperto avrete l'effetto dell'occhio all'ingiù e non penso che sia questo il vostro obiettivo ok quindi voi prendete la vostra ciglia con le mani con la pinzetta come meglio vi trovate la dagiate sul vostro occhio e la ciglia finta non deve mai iniziare dall'angolo interno altrimenti a parte che vi fate male ma non si applicano così dovete farla iniziare più o meno da dove inizia la vostra iride e quindi più o meno questa distanza qui dove iniziano poi le vostre ciglia un po' più fitte quindi più o meno da questa altezza qui allora sono molto lunghe fanno se io le lasciassi così mi farebbero l'occhio all'ingiù andiamo a tagliarle dobbiamo più o meno capire quanto tagliare dovete appunto togliere la parte fino a dove finiscono le vostre più o meno ciglia naturali quindi in questo punto quindi io so che devo tagliare all'incirca tot millimetri una volta presa la misura delle vostre ciglia dovete passare allo step successivo cioè quello di tagliare la parte in più come si tagliano le ciglia in questo caso guardate un po' abbiamo delle ciglia che sono metto più dietro ecco delle ciglia che sono corte lunghe corte quindi tagliando un po' perderete questo effetto qui mentre sulle ciglia che sono corte dalla parte iniziale lunghe dalla parte finale si possono tagliare da entrambi i lati però io vi consiglio di tagliarle dalla parte finale perché se sbagliate a tagliare dalla parte iniziale tagliate di più cosa succede che l'effetto è bruttissimo perché avete le ciglia qui davanti molto lunghe quindi tagliate sempre dalla parte finale se invece le vostre ciglia vanno bene come misura è un po' difficile però mettiamo il caso che dovessero andare bene come misura vedete che qui ci sono dei pezzettini che sporgono in più quindi semplicemente se la vostra ciglia è della misura giusta andate a tagliare semplicemente questo pezzettino in più ok in questo modo tagliate solo col pezzettino in più facciamo anche di qua tagliarle così con le braccia in aria è un po' difficile però ok tagliate il pezzettino in più se sono punto lunghe e una volta presa la misura e sapete quanto dovete tagliare tagliamo dalla parte esterna quindi più o meno nel mio caso era questa misura qui e tagliare questo pezzo quello che vi posso consigliare e siccome non si può tornare indietro una volta tagliata la ciglia e se non vi sentite sicure di tagliare pochino per volta in questo modo non rischiate di fare la vostra ciglia troppo corta quindi tagliate poco per volta prendendo più volte le misure e così riuscite ad ottenere la vostra misura perfetta ora io cosa vado a fare vado a rimisurare la ciglia per capire se ho tagliato bene o meno la vado ad adagiare ecco così come potete vedere la misura è perfetta spero che si riesca a vedere ovviamente tagliata la prima ciglia dovete anche tagliare l'altra perché non potete fare una corta e una lunga quindi l'unica cosa da fare per avere perfettamente la misura identica è andare a sovrapporre le due ciglia in questo modo le sovrappanete una sull'altra e andate a tagliare il pezzettino che rimane in più mi raccomando tagliate sempre dall'esterno e non dall'interno ricordatevi quindi stando attento a non tagliare la ciglia che abbiamo già tagliato andiamo a togliere la parte in più nell'altra ciglia ok e così avete due misure perfettamente identiche se volete essere sicure ovviamente andate a misurare anche l'altra ciglia una volta tagliata perché non vorrei che avete un occhio più lungo di un altro però è raro a me a volte capita con alcune ciglia però in questo caso la misura va bene una volta tagliate le vostre ciglia se non avete delle ciglia così curve come queste ma avete queste classiche ciglia come queste di NYX un po' più dritte per andarle a curvare maggiormente vi consiglio di prendere una matita una penna e di arrotolarle così in questo modo premendo un po' i bordi così in questo modo così e di lasciarle un pochettino in questo modo giusto 3-4 secondi in modo tale da dargli una curva una curvatura maggiore potete anche prendere le estremità e fare questo movimento spero che riusciate a vederlo quindi prendete le estremità spingete verso l'interno e fate ora passiamo un step molto importante che è appunto quello della colla io avendo questa colla con questo applicatore quindi a tubetto e non con il pennellino vado a mettere un po' di colla sulla mano in questo modo qui la faccio tipo a montagnetta prendo la ciglia in questo modo e la faccio leggermente trascinare sulla colla in questo modo qua dovete fare uno strato leggerissimo di colla mi raccomando non uno strato molto spesso poi prendo con il dietro della pinzetta l'altra colla e vado a insistere interno ed esterno perché sono gli angoli che necessitano di più colla perché tendono a staccarsi come vi dicevo prima aspettiamo 5-10 secondi potete anche sventolare la vostra ciglia soffiare un po' al di sopra sventolate 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 per 5-10 secondi e poi applicate la ciglia nel frattempo che la colla asciuga io vado a preparare le mie ciglia quindi cosa faccio mi serve un mascara e un piegaciglia piego le mie ciglia naturali in questo modo si fonderanno meglio con quelle finte e applico un velo di mascara non molto spesso un velo leggero di mascara ok in questo modo non si noteranno perché saranno curvate nere e si andranno a fondere con quelle finte bene a questo punto direi che la colla è pronta e quindi andiamo ad applicarle soffio un altro po' per sicurezza non applicate mai le ciglia finte in maniera dritta rispetto all'occhio ma dovete applicarle dall'alto perché così facendo riuscite ad avere una ciglia più aperta e uno sguardo più aperto se le applicate dritte ovviamente la ciglia finta sarà dritta quindi la prendete in questo modo così e in questo modo l'andate ad adagiare l'adagiate già dove dovrebbe essere quindi dove dovrebbe iniziare e dove dovrebbe finire poi la spostate leggermente ma deve essere più o meno nella posizione giusta quindi la prendete così verso l'alto e andate ad adagiare sul vostro occhio bene fatto questo dovete andare a farla unire perfettamente con il vostro occhio quindi prendete la parte finale e la spingete così in questo modo poi prendete la parte iniziale e la fate aderire all'inizio vedete che io spingo verso la palpebra in questo modo spingendo si attacca alla mia pelle poi cosa faccio con la pinzetta con questa pinzetta con un'altra pinzetta la inserisco in questo modo e schiaccio in modo tale che si unisce la mia finta con quella naturale qui invece vado a spingere in questa maniera qui quindi spingi 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 in questo modo si uniscono come potete vedere sono super super wow queste ciglia e questo è il risultato finale una volta fatta questa operazione cosa faccio guardo verso il basso e controllo e qua c'è un piccolo puntino vuoto quindi quando succede questo prendo un goccettino di colla con la punta della mia pinzetta guardo sempre verso il basso e metto la colla sul bordo qui dove appunto non si è attaccata la ciglia finta aspetto un pochettino che la colla si rapprendi la prenda e vado a premere la ciglia contro la palpebra in questo modo dove abbiamo applicato la colla e come potete vedere si è perfettamente incollata andiamo a perfezionare l'applicazione come prima cosa il primo step che io faccio è quello di andare ad applicare una matita nera nella rima superiore in questo modo andrete a minimizzare un po' le attaccature delle ciglia quindi semplicemente vado ad applicare la matita sopra in questo modo io ormai ho imparato ad applicarla così e mi ci trovo benissimo quindi metto la matita chiudo l'occhio e fa tutto da sola sia applica sia sopra che sotto ok primo step faccio sempre questo quindi faccio penetrare bene una matita dopodiché prendo un eyeliner e vado a disegnare nell'angolo interno se avete una banda sottile come quella trasparente molte volte non c'è nemmeno bisogno dovete solo un po' coprire la banda in questo caso se non è una banda un po' più spessa vado a rifinire un po' l'inizio e anche il sopra delle ciglia perché non sempre si attacca in maniera proprio precisa quindi semplicemente vado a unire in questo modo in maniera molto semplice niente di particolare ok e poi visiono dall'alto e vedete che si nota un po' di irregolarità quindi mi tiro una linea leggerissima di eyeliner in questo modo così da avere una linea più omogenea se si vede un po' di colla ancora io la copro con con l'eyeliner ok perfetto solitamente quando ho delle ciglia così voluminose non vado a realizzare la codina finale perché già le ciglia mi creano una sorta di apertura verso questo lato verso l'esterno e quindi non la faccio vado a realizzare la linea di eyeliner anche dall'altra parte per completare il tutto io per sicurezza do un velo di mascara ma lo do semplicemente alla base non su tutte le ciglia faccio solo questo movimento alla base qui alla fine dove ci sono anche le mie ciglia finte naturali le unisco così con quelle finte e do giusto un tocco di mascara in questo modo e unisco le mie con quelle finte anche qui magari nella parte iniziale ok vado un po' a sfumare nella rima inferiore e torno subito così vi faccio vedere un po' l'effetto completo e questo è l'effetto finale devo dire che questi ciglia sono molto molto esagerate ma mi piacciono ve le sentite sugli occhi perché sono un po' rigidine sono molto luminose quindi vi vedete il pelo delle ciglia però l'effetto mi fa impazzire mi piace tantissimo come piccolo consiglio vi posso dare che se vedete degli spazzettini piccolini vuoti andate col vostro eyeliner a picchettare all'interno in modo tale da coprirvi e non far notare lo spazzettino vuoto tenete il dischetto di cotone imbevuto di struccante sull'occhio qualche secondo e tirate delicatamente verso il basso la seconda opzione quella che preferisco è di tirare la ciglia dall'esterno verso l'interno io spero che l'applicazione di questa tipologia di ciglia finta sia stata chiara passiamo alla pulizia delle ciglia finte perché molte volte mi è capitato di sentire ragazze che mi dicessero ma come si possono utilizzare più di una volta le ciglia io le applico solo una volta e poi le butto invece no ragazze se voi le lavate in un certo modo non in un certo modo se voi le lavate le pulite le sistemate le ciglia finte potete utilizzarle tante volte io un paio di ciglia finte mi capita di utilizzarlo anche dieci volte dipende poi la qualità della ciglia però minimo cinque volte la utilizzo ma molto di più sinceramente quindi vi faccio vedere come le pulisco io e come faccio in modo tale da poter anche voi conservarle in maniera accurata e utilizzarle più volte tenendo la ciglia in questo modo tra le dita per non rovinarla con una pinzetta andate a rimuovere perfettamente tutta la colla presente sulla banda con le ciglia sempre sul dito in questa posizione in modo tale che i peletti si adagino perfettamente sul dito con una salvietta pulite per bene io ero in una posizione scomoda ma ovviamente utilizzando un piano d'appoggio più semplice e voilà le vostre ciglia finte sono come nuove ed è tutto ragazzi io spero che questo video vi sia stato d'aiuto soprattutto per l'applicazione di questa tipologia di ciglia finte fatemi sapere poi se vi interessa anche quelle a ciuffetti ma non è molto difficile anzi io trovo che quelle a ciuffetti siano più semplici rispetto a queste ciglia finte qui fatemi sapere se vi è stato utile se vi ho dato qualche consiglio in più rispetto a quello che sapevate già e soprattutto fatemi sapere se mettete in atto questi consigli se riuscite ad applicare le ciglia finte se il video vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale io vi mando un grossissimo bacio ci vediamo venerdì alle 19.30 con un nuovo video ciao ciao